Eccoci qua, un caro saluto a tutti quanti. Signori, seconda puntata. Se volete vedere la presentazione di questo gioco con il retro e l'analisi della scatola trovate in descrizione questo precedente video. Se volete per sommi capi come si gioca al titolo in sé, al box, a questo board game di casa Asmody dovete naturalmente vedere il prossimo video in cui lo analizziamo un pochino più nel dettaglio. In questa puntata vi faccio vedere il puro unboxing del gioco. Allora, solleviamo questa scatola. Come vi ho detto nel precedente video, ragazzi, è veramente, veramente pesante. Pesante perché è piena, pienissima di cose. Qua abbiamo il nostro, la nostra confezioncina di loot che andremo naturalmente a vedere poi che cosa significhi all'interno del regolamento. Questi sono gli scenari e c'è proprio un volume dedicato agli scenari specifici perché se avete, se amate giochi di questo tipo, parliamo di Gloomhaven, parliamo di Decent, sono fatti in modo tale da avere tutti questi scenari che possono essere configurati per ottenere naturalmente descrizioni, situazioni, eccetera. Se come me siete grandissimi fan, grandissimi fan di Zombicide, ovviamente conoscete già un po' le logiche. Sono scenari che presentano le missioni e vi danno le logiche di quello che avviene sul modo in cui viene appunto assemblata la situazione, gli assalti, come sopravvivere, eccetera. Questo è un gioco cooperativo che come Zombicide io adoro perché prevede anche un solo giocatore. Cioè voi vi comprate la scatola, vi comprate il gioco e avete la possibilità di giocarvelo anche per i fatti vostri. Questa attenzione io l'adoro perché comunque è molto divertente come cosa. Poi è ovvio che è un gioco, è cooperativo, è fatto per giocare con gli amici, ci mancherebbe anche altro. Quindi è lì il focus ed è lì dove otterrete il massimo. Ma perché non pensare anche a chi una sera che non ha voglia di accendere la televisione, non ha voglia di accendere il computer, ma ama in questo caso Borderlands, si può mettere qua e godere di... guardate ragazzi quello che c'è dentro questa scatola. Si può godere questo tipo di prodottino che io, almeno nel mio caso, sono un super divoratore di board game. Guardate qua. Ma soprattutto perché questi sono quei tipi di giochi, quelli cooperativi, che secondo me sono fenomenali. perché con gli amici ci si mette lì dieci volte, fate lo stesso scenario, non è mai lo stesso, vi giocate, vi divertite, fate due chiacchiere. Qua ci sono tutte le spiegazioni del bottino, della salute, dei segnalini che trovate sotto. Guardate, i classici personaggi che abbiamo amato e conosciuto anche nel videogame. Tra l'altro, una delle cose che naturalmente, non vi ho detto, ma che sicuramente così sarà nel prossimo futuro, ho messo che già non ci sia, non ho controllato, ma secondo me già c'è, tutti questi scenari voi li trovate qua dentro, ma sicuramente in internet, la fanbase creerà altri mille scenari che possono essere stampati, allegati e aggiunti. Io, come vi dicevo, da mega, 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 mega fan di Zombicide, mi sono scaricato missioni aggiuntive, oltre naturalmente ad aver acquistato le varie scatole del gioco. Però alcune missioni che possono essere parallele, alcune piccole modifiche che le community fanno, sono comunque cose a parte, in più, gratuite, che permettono di godere ancora di più del gioco principale. È un po' come il concetto di HeroQuest, per chi fosse un po' più anziano, anche se HeroQuest, tra l'altro, per fortuna, è tornato recentemente, che ha, a mio modesto avviso, il grosso difetto di non avere l'esperienza che cresce con i personaggi. E naturalmente ci sono state poi tutte le varie varianti che hanno permesso questa cosa, ma chiusa la parentesi che assolutamente non c'entrava nulla. Qua ci sono tutti i vari segnalini, sono proprio molto simili anche a come sono stati fatti per Zombicide, vedete cartoncino, ve li tenete a parte, ve li faccio vedere. Queste sono poi tutte le varie tile da assemblare, naturalmente lo dovete staccare. Ed ecco qua, ecco, il focus è questo. Se siete tra coloro che come me, io vi ho fatto la citazione di Zombicide appunto perché vi dicevo sono super mega, hyper fan, eccetera, eccetera, ma io ho apprezzato, quando ho aperto la scatola la prima volta, questo tipo di cosa. Cioè, quindi, chi dovesse dire, ma ho visto che è un prezzo più alto, leggermente però più alto di altri, a parte che è talmente pieno di roba che è assolutamente in linea con tutti gli altri prodotti, quindi il prezzo, ragazzi, è perfetto. Ma, ma, io che sono un amante veramente non solo di certi giochi in scatola ma dell'organizzazione, perché ragazzi, quando fate un gioco in scatola il casino spesso è ok, tiro fuori la roba, la devo rimettere e continuate a fare questo lavoro cento volte se siete un po' degli animali da board game come me e quindi dovete fare tutte le volte questo trasporto. In Zombicide io mi sono comprato la foam a parte, mi sono riorganizzato le scatole che ho comprato di Zombicide perché volevo assolutamente, non se mai vi farò un video in cui ve li faccio vedere, me le sono volute assolutamente risistemare perché quello vi aiuta a risparmiare tempo, è più comodo da rimettere a posto, eccetera, eccetera. Guardate la qualità, signori, guardate la bellezza, guardate la bellezza di questa cosa. Dopo uno dice, vabbè, a me di quello non me ne frega assolutamente nulla e io invece vi dico, vediamo se metta fuoco più che altro, coraggio sorella, non metto a fuoco, lascia a fuoco qua. Comunque, comunque quello è e sono fatti molto bene. Adesso ve ne faccio vedere, guardate qua che roba, guardate. Ecco, una cosa, una caratteristica assolutamente fondamentale è questa. A parte la bellezza di questi personaggi che possono essere, come vi dicevo, anche nel video precedente, colorati e questo vi dà, comunque, vi fa capire, comunque guardate quanto sono fatti bene dettagliati. Cioè non è quella roba stampata male, giusto per darvi l'idea fine. Cioè guardate le finiture, guardate quanto sono dettagliate, non vedete i pezzi che sono in più, che crescono un attimo. Cioè parliamo di roba super dettagliata, super finiture, super scanalate perfettamente, le verniciate. A parte guardate, cioè questo qui è la mia mano, cioè guardate la dimensione, vabbè, poi se vogliamo guardare alle dimensioni, cioè guardate questo, lo pitturate ragazzi, ma che cosa, che cosa salta fuori? Che cosa salta fuori? Ecco, io francamente preferisco, e ripeto, questo è un gioco assolutamente in linea con i prezzi di mercato perfetto, ancora di più se siete amanti di Borderlands, ancora di più se naturalmente, cioè non ancora di più, è perfetto se siete amanti dei giochi cooperativi in generale, anche se di Borderlands, sinceramente non ve ne frega assolutamente nulla. Però, però, c'è da dire che questa attenzione nel riporre tutte le varie carte, tutte le varie cose nella posizione originale, io l'ho apprezzata tantissimo, questo ragazzi è qualcosa di super qualità. Nel prossimo video, come vi dicevo, invece andremo a capire per sommi capi, almeno, come funziona una partita, cosa dovete fare per poter giocare. Questo semplicemente per darvi un'infarinatura generale. Poi, se tutto questo dovesse raccogliere grande entusiasmo anche da parte vostra, anche perché non abbiamo finito qui con i board game, abbiamo, diciamo, porteremo avanti tutta una serie di contenuti anche in questo senso, magari faremo anche qualcosina di una partita live, insomma, progetti che porteremo avanti. Nel frattempo, io, come sempre, vi ringrazio tantissimo, continuate a seguirci e ci rivediamo al prossimo video in cui vi mostro il gameplay. Grazie a tutti, alla prossima e ciao!